salve a tutti amici e benvenuti a questo nuovo video, io sono salvo Pimpost e oggi ritorniamo su un horror child of a witch guarda guarda proprio veramente mettiamo play letteggio io mi indicato solo a guardare il titolo dove sono dove sono dove non vedo un cazzo con tutta la lampada ogni volta non vedo niente neanche chi horror perché perché non si vede mai niente aumentiamo un po' ogni volta ho un pochino si vede ah ma che devo fare che è ah cliccando qua c'è il joystick qua sotto così piccolo ma ecco perché è così piccolo allora siamo in una valle desolata credo alla dietro acqua c'è una via e lì c'è una barca vediamo che c'è nella barca sulla barca e ce ne andiamo cominciamo la nostra ricerca di questi fogli ma è tutto tranquilla praticamente la strada ma ma come cazzo camminati con i granchi fantasmi che camminano con i granchi c'è una casina qua salve casine ci posso entrare c'entra la casa non c'è buono acqua dietro minchia contro dentro il vasino qua ma perché perché tutti i controlli fanno schifo perché tutti i giochi hanno controlli di merda perché una pagina minchia una pagina prendi prova di pre una di nove perché tutti i controlli fanno schifo ma qua deve esserci una pagina per forze abbiamo un bel camion qua non c'è una pagina finché non c'è una pagina baffanco ah mi sono perso io ho perso il senso dell'orientamento alla lì c'è la casa qua perfetto ah ma chi è? una pagina qua la lasciamo aspetta ah ecco io ho fatto il giro di là dalla dietro buono allora vediamo di qua qua non ne vedo qua non ne vedo e non ce ne dovrebbero essere lì c'è il cane allo di là dobbiamo andare buono a meno la via è dritta lineare tranquilla e non fa paura per niente il cancello pure aperto non abbiamo manco bisogno di chiavi scherzavo scherzavo che non fa paura per niente cominciamo chi è questa qua che mi appare? dentro il secchio c'è niente no non c'è niente comunque abbiamo quante due pagine tre pagine un poco perso il conto cioè siamo all'inizio e già perso il conto di quante pagine abbiamo ok negli alberi di solito le pagine le infilzano negli alberi non so perchè ma è così ecco a tutto deserto le altre pagine saranno qua in mezzo a questi alberi o ci sarà qualche altra cosa una pagina ecco sapevo che li infilzano negli alberi le pagine lo sapevo no mi prendila però tre pagine tre pagine cioè io non oso immaginare cosa deve succedere quando trovo tutte le pagine e mi avvio verso la barca questa tizia che cosa mi farà? mi stuprerà? mi violenterà? mi ucciderà? mi ricatterà? un mulino aspetta che vado nel mulino negli alberi c'è più niente no? un mulino con una pagina là l'ho vista aspetta vediamo se ce ne sono qua pure aspetta che ho visto la pagina là sto venendo aspettami se riesco ad entrare e trovare l'entrata entro entro però entro trovato quattro ma è facile cioè non succede niente mi aspettavo chissà che cosa allora quattro quattro pagine e le altre cinque dove le hanno schicchiate? qua non c'è più niente saranno negli alberi tutte cinque negli alberi vediamo di qua vedete niente? io non vedo una cippa di pinna là c'è una casa o è quella dove sono andato prima? no forse là non ci sono andato negli alberi non ne vedo più a meno che dalla prospettiva in cui li guardo la pagina è nascosta quindi ha voglia a guardare qua c'è una casa una pa- pagina pagina e prendi sta pa- cinque cinque pagine che? no che sei imbambolata sei ciao ma quanto sei carina qua pagina pagina che mi sta cominciando a cacare però la tizia si sta facendo un pochettino vedere un po' più frequentemente è che non mi piace non mi piace non mi piace che si bloccò la tizia tizia hai tanto spazio attorno a te muoviti il culetto vabbè buono stati là io mi prendo la pagina per me la stiglio ok ora le altre pagine devono essere da queste parti possiamo entrare no pagina sette pagine sette pagine tutte le due ti sei mossa ti ho visto ti ho visto voi giocare 1 2 3 stella io stati là stati là perchè me ne devo andare paginine dove cacchio ah qua si entra ninja qua si entra io mi scanto ad entrare qua però ah ci sono le scala no non ci sono le scala ci sono le scala di là paginine qua ci deve essere per forza qualche pagina eh ciao ciao bella ciao non prendere fresco non mi fa niente si impala qua non voglio parlare non voglio parlare poco fa ho detto che era facile poco fa ho detto che non c'era nessuno e mi spunto la tizia ragazzi so che non fa paura però pensiero che c'è la tizia che mi segue e che mi guarda da lontano non è piacevole eccola non è piacevole il che il che mi fa venire un certo piccolo brivido una casa un'altra casa qua ci sono già passato no non ci sono passati nessuno nessuno ho detto pia pagina pagina 8 l'ultima pagina l'ultima pagina ecco no non mi fare niente non mi fare niente che c'è l'ultima pagina torna indietro la nave no vini deve far uscire ora però ciao non ti va no 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 cos'è ti blocco proprio l'ultima pagina l'ultima pagina l'ultima pagina torna indietro la barca e lascia questo posto finalmente di nuovo ora mi spuntala tizia io non mi muovo d'acqua tizia non mi spuntare tizia 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 non mi spuntare ora perché ti uccido tizia 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 ti uccido già un'ora che sono qua dove c'è un devo ritornare alla barca c'è il dovere il cancello io mi ricordo il cazzo il cancello di qua pare che erano doveva arrivare di nuovo all'inizio tizia qualche uso lo cazzo è il cancello ci ho fatto praticamente tutto il giro della dell'isolato qua ancora il cancello non l'ho trovato dove minchia era a primo po' lo troverò seguendo il perimetro questo campo di merda primo po' lo troverò ma deve essere da queste parti però cioè ho fatto tutto il giro se mai che non lo trovo qua forse qua 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 trovato trovato tizia non mi apparire tizia non mi apparire ora tizia ti prendo a testate tizia non mi apparire perché ti uccido l'ho già detto che ti uccido minchia ho l'ansia oh tizia fammi arrivare alla barca tizia chi è? chi è sta cosa? no! che cos'è sto coso nero qua? fattene la barca la barca veloce 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 prendi la barca prendi la barca che è? che cazzo è sto coso nero? veloce veloce non ci fare caso veloce prendi la barca prendi la barca hai salvato te stesso e adesso puoi lasciare questo posto dannato ce l'ho fatta e anche questo gioco abbiamo completato per ragazzi se il video è piaciuto lasciate un bel mi piace e condividetelo fatelo anche sulla pagina facebook sui altri sociali qui trovate link in descrizione iscrivetevi al canale e per oggi è tutto al prossimo video come si usa? ah certo pure limitate con la benzina limitata ma vai titri tu titri tu non è finita la benzina